Una vittoria firmata IA Quinta, quella del trofeo Mini Challenge, che ha visto il Castrovillarese piazzarsi al primo posto del campionato 2017 nell'ultima tappa al circuito internazionale del Mugello. Simone, giovane pilota classe 90, ormai calcato svariati circuiti, arrivando a conquistare diverse tappe del settore. Dal 2016 è istruttore di guida Porsche, dal 2008 è tra i sei migliori piloti d'Italia selezionato per il supercorso federale. Da quando avevo nove anni ho fatto una mini carriera di go-kart perché poi sono passato subito alle auto, ho fatto diversi campionati con le Formula, Formula 3, Formula Abarth, Formula Renault, sono i campionati propedeutici, la scuola delle macchine da corsa. Poi sono passato alle vetture GT, l'anno scorso ho fatto il Carrera Cup, il Porsche Carrera Cup Italia, sono ancora pilota Porsche facendo istruttore di guida per i corsi dei clienti e quest'anno abbiamo fatto la Mini, il trofeo Mini e sono riuscito a vincerlo. I traguardi raggiunti certe volte non li guardo, non mi giro mai indietro per guardarli perché sennò non voglio perdere la concentrazione e raggiungerne sempre di più. Sin dal sabato la macchina aveva dei problemi elettrici, si spegneva in qualifica, mancava ancora un punto per vincere il campionato, un punto di sicurezza, ne avevo 19 di vantaggio, 20 era il limite. Ho detto oddio se mi ritiro è finita, ho detto perdo il campionato per un punto, ma poi alla fine ho trattato il traguardo anche in seconda posizione e quindi da lì ho ripagato tutti i sacrifici e l'attenzione che ho avuto. L'anno prossimo vedremo di continuare su questo filone, sicuramente se avrò delle buone opportunità rifarò il mini challenge perché è un campionato organizzato bene, fatto bene, c'è una casa automobilistica alle spalle e qualche gara con le GT sicuramente ci uscirà. Correre per raggiungere la vittoria non è facile e quando si raggiunge è un'emozione bellissima.